Ciao Marcello e ciao amici di Topland, è terminata una settimana per me veramente eccezionale dopo aver visto questi signori qua dietro per ben tre volte in quattro giorni, intervallati dalla finale di Coppa Italia direttamente sugli spalti dell'Olimpico, oggi è stato il degno coronamento di una settimana eccezionale, oggi ho visto una squadra caparbia come doveva essere, annichilire 11 baldanzosi giocatori del Crotone, né più né meno come aveva annichilito gli 11 della Lazio, cioè praticamente la Juventus ha incontrato in questa settimana due squadre ritenute fra le più in forma in questo momento, una Lazio che veniva da roboanti risultati quasi tennistici, rifilati e tra l'altro anche con la vittoria nel derby e poi il Crotone che aveva fatto 17 punti nelle ultime mi pare 7 partite, quindi un ruolino di marcia incredibile eppure entrambe le squadre sono sembrate niente rispetto alla Juventus che nel giro di un tempo di partita le ha liquidate tutte e due. Onore al merito di questi grandissimi calciatori, anche oggi allo stadio è stato bellissimo vedere sfilare questa rosa della Juve che io definisco veramente fantastica, una rosa veramente incredibile, questa sarà una squadra che verrà ricordata assolutamente come è giusto perché come dice la Juventus sei leggenda, sei scudetti, legends e noi dobbiamo essere grati a quello che sta succedendo in questi ultimi sei anni, specialmente in questi ultimi tre che ci sono anche le finali di Champions perché stiamo vivendo veramente un momento esaltante. I guain che i napoletani pensavano che via di là non avrebbe più segnato, si sarebbe intristito e tutto, invece è felice come una gioia e non gli sembra vero, ha già portato a casa due titoli e rischia clamorosamente di fare un unplan che al Napoli avrebbe sognato manco col binocolo e manco con tutti i santi immaginabili. Per cui che dire, un saluto a tutti, adesso vedo di passare una settimana un po' più tranquilla e un po' più riposante e per sempre forza Juventus fino alla fine. Ciao!